Poteva davvero finire in tragedia e invece è una storia a lieto fine quella che ha visto coinvolti un nonno e i suoi due nipotini di 5 e 7 anni. Il nonno, un 63enne del Valdarno, si era allontanato da casa intorno alle 16 del pomeriggio con i due nipotini per portarli in zona Gorgiti nel comune di Loro Ciuffenna e fare il bagno lungo il fiume. Un pomeriggio insomma per stare insieme e rifugiarsi dalla calura. Alle 19 non sono rientrati a casa, i genitori si sono allarmati e hanno chiamato i soccorsi. Una volta partito il protocollo delle persone scomparse sono iniziate le ricerche insieme ai vigili del fuoco, insieme agli altri enti del territorio e siamo stati avvisati anche noi quindi come indicazione che c'era questa persona scomparsa insieme a questi due bambini di circa 5-7 anni. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Arezzo e Montevarchi e il gruppo unità cinofile da soccorso. L'auto è stata ritrovata attorno alle 1 di notte nella zona adiacente al torrente, mentre il nonno con i bambini sono stati ritrovati attorno alle 4 e mezzo 5 della notte. Il nonno purtroppo era scivolato nel torrente avendo una frattura ad un arto inferiore, quindi era impossibilitato a muoversi, a chiedere aiuto. E ahimè la zona non era coperta da segnale telefonico, quindi anche per quanto riguarda un chiedere aiuto, un avere richieste di soccorso era impossibilitato. I bambini per fortuna stavano bene, impauriti, infreddoliti, ma comunque stavano bene. Il nonno è stato portato in pronto soccorso dai nostri mezzi di soccorso, dove è stato valutato per questo trauma all'arte inferiore e per un'ipotermia, perché logicamente essendo sul letto del torrente anche tutto il suo corpo aveva assunto una temperatura un po' inferiore rispetto alla norma.